La marina doveva inviare navi da guerra contro la setta. Dove sono? Per la mia esperienza, le promesse del governo americano non valgono nulla. Sono solo in ritardo. Sbarchiamo e montiamo un campo. E' così. Questo è il famoso ossario. Non so se possiamo oltrepassare l'ossario. Forse dovremmo attraccare sul lato meridionale dell'isola. Comandament! E' il volo. Sì! E' il volo. E' il volo. E' il volo. Ready. Yeah, yes, he won't get ready. Hmm, sei finita, derritte nella mia trappola. Bel lavoro. Come on, dammit. Yes. Iwalt. Yes. Imenas. Yes. Imenas. Yes. Imenas. Yes. I'm ready. Got two rats. Come on, Iwalt. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Yes, yes. I'm ready. I'm going now. E Jagыпorrhe. You林. I will do this. I'm going now. I'm going now. Dobbiamo resistere finché non arriva la flotta americana. E così la vana ci è diventato ostile. Bene. Morirà insieme ad Amelia Black. Ready, Ewald. La marina dei guardiani statta. Tenteremo di respingere le forze della setta mentre tu costruisci la tua base. E così? E così? E così? cercheremo di darvi le risorse che possiamo non L'attento. Vedi. Hei. Forster. Armandament. Hei. Richt. Una hotend. Vike. Yes. Yes. Hello? Ja. Una hotend. L'attento. Gah! Sì. Sì, che c'è tempo. I rieguentos. Cosa posso fare? Sono pronti. All'acqua. All'attacco. Una rota, e che? Klar. Un mondo bunt, licht. Ehem. L'ecatentias. Catorre... come on dimenti e vol Grazie a tutti. 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 Yes? Dove sono le navi americane che ci erano state promesse? Yeah? Yeah? Grazie a tutti. Yeah? Yes? Ready? 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 Yeah? 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 I'm ready, right What can I do? Commandement? Yes Focus there Focus there Yes, Tilyara Hello? Come on Yes Ready Ready, commandement Come on Yes 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 He won Yes He menace Come on He won He menace Ready Yes He won Yes Come on He menace ho forti il non purположis alle ugual? 에요 Comando, team, you ready? Comando, man. Four step. There he won. Four step. Comando, man. There he won. Oh, man assault. Ready. Yes, he won. Yes, he won. Yes. Imenesor. Comandament. Yes. Yes, Imenesor. Comandament. Yes. Imenesor. Yes. Imenesor. Comeand Iman. Yes. Yes. Imenesor. Yes. Imenesor. Imenesor. Ready. Comandament. Yes. come on the man yes come on wall yes ready be minus yes yes come on the man yes yeah Sì Sì I'm going there, right Come on, it's one Ready? Yes, it's one Come on, it's one Yes, ready, man, I saw Commandment Yes, commandment Come on, you want Yeah, I do it Yes, ready Ready, you want Yes, commandment Yes Yes Ready 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 Imenasol Yes Come Yes Imenasol Come Yes Imenasol Come Yes Come Yes Imenasol The commandment Imenasol Yes Come Yes Imenasol Yes 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 Brady Brady Yes, he won Brady Brady Commandment Yes Brady Yes He won Brady Yes Unahod Brady Brady Huck is there Commandment Heil Ready Heil Yes Heil Right Ready Ready Huck is there Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 E così ce l'hai fatta. Una ferrovia unisce Kansas City alla costa ovest. Già, la Falcon Company non è stata la prima, ma ha avuto la sua fetta di torta. I giornali dicono che hai risolto i problemi economici. Abbiamo trovato dei nuovi investitori in Florida e a Cuba. Bene, lieto di sentirlo. La tua famiglia sarà orgogliosa. Questa terra è tua adesso. Tu hai di quelli come te, con la spina dorsale d'acciaio. Resterei a chiacchierare con te, ma arriva il treno. Hai sconfitto la setta. È in una sola vita per giunta. Che cosa hai detto? Non perdere il treno. Che cosa hai detto? Hai sconfitto la setta. Che cosa hai detto? Perậpente mentalità dell'amorare è probabilmente evitante. E guardate unilo che miro la spina di cose con te, ma riuncio. Spina d Sexuala Suga. Grazie.